Caterina Balivo è indignata, passeggiando per Roma, trova delle mascherine gettate a terra e non ci sta su Instagram. Condivide tutto il suo sdegno e dà il buon esempio. Decima mascherina che vedo, che raccolgo, che butterò... Vieni Cora, vieni! Io dico no, io dico... Ma che vi costa prenderla e buttarla nel cestino? Cosa vi costa? Cosa? Incivili, la gente è incivile! Cioè, ancora andiamo amore? Vabbè, ha smesso di piovere, tornate il sole.